L'intervento in questa scuola, che è la scuola della Casa del Sole, che è una scuola di primaria dell'infanzia nel comune di Rivoli ha interessato il rifacimento dei terrazzamenti delle maniche laterali di questo edificio vincolato dalla soprintendenza che era nato con Leumann, che era stato fondato e realizzato da Leumann nel 1800. Quando era poi passato alle proprietà dell'amministrazione vennero fatti degli interventi di restauro in più occasioni però nel corso del ventennio necessitavano di riprendere e risolvere delle problematiche di infiltrazione. Pertanto la maggior parte di questi interventi hanno interessato la risoluzione di queste problematiche con il rifacimento intero dei due terrazzamenti laterali al corpo di fabbrica principale. comprese le modanature delle balaustre che sono state riviste e interamente ricostruite sempre con il benestare della soprintendenza. Unitamente a questi interventi sono stati fatti poi degli interventi anche all'interno dell'edificio atti a risolvere queste problematiche e in ultimo sono stati eseguiti anche degli interventi sulle tinteggiature del corpo della fabbrica principale dell'intero corpo al piano terra e restituendo così la scuola all'utilizzo della direzione didattica. Grazie.